Sarà di nuovo utilizzabile la pista di atterraggio per l'eleambulanza presso il Centro di Protezione Civile di Orto Murato a Castelnuovo. Come è noto, in questi mesi l'elicottero Pegaso non atterrava più nella pista dedicata, ma per l'emergenza adoperava lo stadio Nardini di Castelnuovo. L'infrastruttura è sempre stata aperta ed agibile per le attività di lavoro aereo ed antincendio boschivo, ma la società esercente e servizio per l'attività dell'eleambulanza Pegaso non aveva sospeso l'utilizzo per la classe operativa legata al mezzo. Avevamo avuto uno stop per quanto riguarda l'eleambulanza che è stata ripristinata durante il periodo diurno. Dovremmo ora fare una verifica con Enac rispetto a un nuovo progetto che abbiamo presentato e formalizzato proprio per definire un nuovo cono d'ingresso, un nuovo cono d'uscita, l'abbiamo già concordato, dopo il sopralluogo verrà ripristinato il servizio dell'eleambulanza anche nel periodo notturno. Al momento quindi Pegaso potranno atterrare in quest'area solo nelle ore diurne. Dal lunedì prossimo inizieranno i lavori concordati con i tecnici per il posizionamento di un secondo radiofaro per tracciare anche un secondo cono d'ingresso e di uscita. A portare avanti questa serie di interventi di adeguamento è stata l'Unione Comune Garfagnana e il progetto rientra nell'ampia operazione di riqualificazione di quest'area dedicata alla protezione civile che vede investimenti importanti.